Con una cerimonia nella hall dell'ospedale delle Apuane a massa, la regione toscana ha consegnato il Pegaso d'oro a tutti gli operatori del sistema sanitario regionale per come hanno saputo affrontare l'emergenza Covid. A riceverlo simbolicamente la direttrice generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, un'area, quella del territorio apuano, tra le prime e tra quelle più duramente colpite dall'epidemia di coronavirus. La massima onoreficenza della regione toscana è stata conferita a tutti gli addetti alla sanità che hanno combattuto e che continuano a combattere contro il virus. Come scritto nella motivazione del riconoscimento, il sistema sanitario regionale ha saputo rispondere efficacemente all'emergenza grazie alla professionalità di tutto il personale, all'organizzazione territoriale, la tempestiva presa in carico dei pazienti e ai presidi ospedalieri che hanno saputo aumentare in tempi rapidi i posti letto nelle terapie intensive.